Telefoni muti oggi al call center QE di Contrada Tre Fontane a Paternò dopo oltre dieci anni dall'inizio della sua attività all'interno del capannone si è smesso di lavorare. Giornata di proteste e di risultati oggi per il primo circolo e il comprensivo Don Milani a Paternò da domani regolarmente a scuola gli studenti del plesso di Viale Kennedy, doppi turni ma solo per due settimane per il primo circolo. Scoperta dalla polizia un'altra piantagione di marijuana nelle campagne di Adrano, in Contrada Poggio Chiuse sequestrati 83 arbusti ad alto fusto già germogliati. A conclusione dei lavori della soprintendenza oggi, dopo un anno e mezzo, ha riaperto i battenti il Museo regionale di Adrano allocato nel Castello Normanno. Si tratta di una riapertura parziale solo per il pian terreno, il primo piano e il secondo piano sarà visitabile entro il mese. Pane, amore e fantasia è il titolo dello spettacolo teatrale in programma sabato prossimo a San Francesco alla Collina, a Paternò. Serata di beneficenza della Teatro Giovane Turi Pappalardo e della Croce Rossa Italiana, sezione di Paternò per l'acquisto di buoni pane. Buonasera e bentrovati per questo nuovo spazio con l'informazione di Ciac News. Apriamo con una notizia che arriva da Paternò, la questione lavoro. Attenzione, resta sul call center QE da questa mattina. Sciopero ad oltranza dei lavoratori, visto insomma il fallimento della trattativa di ieri in prefettura a Catania. Si spera ancora di poter salvare il salvabile, riuscire a far ripartire l'attività all'interno del call center di Contrada Tre Fontane. Ed è per questo che si spera in una soluzione positiva che può arrivare da Roma. Vediamo. Oggi primo giorno di sciopero in attesa di capire cosa c'è nel futuro dei lavoratori della call center QE. Nessuno vuole rassegnarsi, non si possono perdere in silenzio circa 600 posti di lavoro. Non è possibile accettare la chiusura di uno dei polmoni economici più importanti della città. Quali ripercussioni dirette potrà avere sull'economia locale non è ancora chiaro, ma è evidente che i contraccolpi negativi saranno molto pesanti. I sindacati di CGL e CESL intanto non mollano la presa. Si tenta di capire se vi è uno spiraio, se dal tavolo di concertazione nazionale richiesto dopo il fallimento della trattativa in prefettura, si potrà ottenere qualcosa di positivo. Gli occhi dunque si spostano su Roma al Ministero dello Sviluppo Economico. È qui che le parti in causa saranno convocate per verificare possibili strade da percorrere. Intanto si tenta di capire come si comporteranno i vertici dell'azienda QE. L'azienda DM Contact, proposta dall'impresa QE, è stata l'unica che ha avanzato una proposta in prefettura, che non è stato però possibile accogliere. In pratica si era ipotizzato il salvataggio dei rami di azienda Enel e Wind per complessivi 90 posti di lavoro senza nessun carico per il subentrante dei debiti intanto pennenti. Debiti per oltre 6 milioni di euro, tra questi gli stipendi dei lavoratori stessi. Da qui la chiusura della trattativa, con la possibile decisione di QE di dichiarare fallimento. Nell'attesa, come detto, da questa mattina l'azienda ha smesso la sua attività. I lavoratori, che attendono ben tre mensilità di stipendio arretrate, sono in sciopero ad oltranza. E da una questione delicata ad un'altra, restando a paternò, dalla questione lavoro a quella sanitaria. A parlare oggi è il presidente della regione Sicilia, Crocetta, e parla in riferimento ai annunciati tagli sulla sanità siciliana. Ho sentito lungamente l'assessore Gucciardi, dice Crocetta, con il quale condivido le linee per cercare di porre un'argine al tentativo troppo facile di razionalizzare la sanità attraverso processi di depotenziamento di realtà locali che molto spesso hanno già subito profondi attacchi e che si vedono privati di servizi essenziali. Crocetta continua. Voglio dire con chiarezza che l'assessore Gucciardi non ha presentato alcun progetto a Roma, ma che le linee che vengono fuori in questo momento da indiscrezioni di stampa rappresentano proiezioni delle conseguenze di scelte del Ministero della Salute. Relativamente all'argomento sanità ci sono anche i vescovi siciliani che prendono una posizione. In una dichiarazione di oggi dicono che il depotenziamento delle strutture sanitarie in Sicilia che garantiscono ai cittadini il diritto alla salute e la paventata chiusura di alcuni presidi ospedalieri destano apprezzione e preoccupazione. I criteri di riorganizzazione della sanità siano ispirati alla dignità della persona umana, continua la nota dei vescovi siciliani salvaguardando le zone disagiate e periferiche della nostra regione. Cambiamo decisamente argomento, parliamo di scuole. Oggi altra giornata intensa a Paternò per gli studenti e i genitori del primo circolo didattico e dell'istituto comprensivo Don Milani. Diversi problemi ma sempre legati a problemi appunto alle strutture. Plesso di via degli studi per il primo circolo, plesso di via Le Kennedy per il comprensivo Don Milani. Per entrambe le strutture, per entrambe le scuole le soluzioni sono finalmente arrivate. Vediamo. Si avvia a soluzione la questione scuole a Paternò. Salvo sorpresa dell'ultimo minuto, questa mattina si sono messi i punti fermi definendo le situazioni per il plesso di via Le Kennedy del comprensivo Don Milani e per il primo circolo didattico Lombardo Radice. Andando con ordine, per il plesso scolastico di via Le Kennedy, ex quarto circolo didattico, questa mattina si sono ritrovati al comune i tecnici comunali, insieme alla responsabile per la sicurezza delle scuole, Nanni Saccone, con loro il titolare della ditta spampinato che sta eseguendo gli interventi sul tetto della struttura scolastica e ancora il preside della Don Milani, Carmelo Santagati, il presidente del consiglio di circolo, Riccardo Fusto e l'assessore alla pubblica istruzione, Valentina Campisano. Obiettivo garantire la prosecuzione dei lavori sul tetto della struttura scolastica, garantendo nel contempo l'utilizzo delle classi per le lezioni degli studenti. La detta ha già provveduto ad isolare le aule e i corridoi dove si sta lavorando con le zone praticamente inaccessibili. Nel contempo la parte libera verrà utilizzata per le lezioni. 19. Le classi a disposizione alla scuola ne occorrono 21, ma le soluzioni alternative sono pronte. Per maggior sicurezza, andando incontro anche alle richieste dei genitori, il preside ha chiesto di inserire nel verbale di coordinamento che le aule concesse alla scuola sono idonee per ospitare gli studenti. Domani, dunque, i primi alunni entreranno in classe al plesso di Viale Kennedy. Sono due quinte classi delle sezioni C e D. Dal plesso di Viale Kennedy al primo circolo di Via Emanuele Bellia. Dopo le proteste dei genitori, l'ultima questa mattina è stata trovata una soluzione per le cinque classi che mancano all'appello, visto la chiusura del plesso di Via degli Studi. Una classe verrà ospitata all'interno del plesso centrale, con la sistemazione in un laboratorio. Le altre quattro classi, invece, troveranno ospitalità presso liceo classico Rapisardi. Per consentire di avviare l'iter di richiesta delle aule all'ex provincia regionale di Catania e ottenere le autorizzazioni, oltre a effettuare il trasloco, occorreranno circa due settimane. Da qui la decisione di fare doppi turni con turnazione fino alla fine della prossima settimana, con l'orario pomeridiano in ingresso alle 14.15 e fine lezioni alle 16.15. E adesso la pagina di Cronaca Nera è stata scoperta dalla polizia. Un'altra piantagione di marijuana nelle campagne di Adrano, in Contrada. Poggio chiuso e sono state sequestrate 83 piante già arbusti ad alto fusto che erano appunto già germogliati. Vediamo i particolari in questo servizio. Ancora una piantagione di marijuana scoperta dagli agenti del commissariato di polizia di Adrano nell'ambito di mirati servizi antidroga. Dopo un'attente attività di indagini, i poliziotti del commissariato Adrano hanno individuato nelle campagne di Adrano una estesa piantagione di marijuana, costituita esattamente da 83 arbusti ad alto fusto già germogliati. Le piante di marijuana venivano coltivate, nello specifico in Contrada a Poggio Chiuse. Naturalmente sono state poste sotto sequestro. Si tratta di circa 40 kg di sostanza stupefacente che era destinata al mercato locale e regionale della droga. Le indagini degli agenti di polizia sul rinvenimento della piantagione nelle campagne di Poggio Chiuse non si sono concluse. L'attività investigativa adesso è finalizzata a rintracciare i responsabili della coltivazione illecita. Solo alcuni giorni fa la polizia di Adrano aveva scoperto un'altra piantagione di marijuana sempre nelle campagne adanite. I poliziotti sequestrano un fondo agricolo. Fra alberi di olivo vennero rinvenuti 69 arbusti ad alto fusto. Adesso ci fermiamo per la pubblicità. Noi ci ritroviamo in studio subito dopo ancora con altre importanti notizie. Idea Brico Paternò è lieta di annunciarvi l'apertura del nuovo showroom Spazio Casa. 500 metri quadri dedicati ad arredare ogni spazio della tua casa. Finalmente quello che mancava per progettare insieme a te la cucina, la camera da letto, il soggiorno, la cameretta e per scegliere il parquet, le porte, la carta da parati, l'illuminazione che hai sempre sognato. Personale qualificato ti accompagnerà nelle varie fasi, dalla progettazione al finanziamento e infine al montaggio. Penseremo a tutto noi. Sopraluoghi gratuiti semplificheranno la progettazione e tu finalmente non dovrai pensare più a niente. Spazio Casa. Quello che mancava. Una nuova idea di Idea Brico. Per ogni acquisto pari a 1000 euro ricevi un divano in omaggio. Ci trovate in via Emanuele Bellia 265 a Paternò. Seguici su Facebook Idea Brico Paternò. Spazio Casa. Un negozio veramente mobiloso. Rientriamo in studio. Rientriamo con una notizia di cultura che riguarda Adrano. A conclusione dei lavori della soprintendenza, oggi dopo un anno e mezzo ha riaperto i battenti il Museo Regionale di Adrano posto all'interno del Castello Normanno. Si tratta comunque di una riapertura parziale visto che sono fruibili al momento solo il piano terra, il primo piano e il secondo piano sarà comunque visitabile a partire dalla fine del mese. Dopo poco più di un anno e mezzo questa mattina ha riaperto i battenti il Museo Regionale Salofranco di Adrano allocato all'interno del Castello Normanno a conclusione dei lavori della soprintendenza di Catania che hanno reso la struttura più funzionale e accessibile a tutti. È stato infatti realizzato anche un ascensore interno. Si tratta in realtà di una riapertura parziale. È possibile visitare al momento solo le collezioni archeologiche esposte al pian terreno e al primo piano. Il terzo verrà riaperto nelle prossime settimane e il resto successivamente. I visitatori pertanto pagheranno per l'ingresso solo 2 euro, il prezzo del biglietto ridotto. Per l'occasione presenti questa mattina il direttore del Museo, l'architetto Nello Caruso, il sindaco Pippo Ferrante, l'assessore comunale Antonio Di Marzo, i consiglieri comunali a Dele Trovato e Carmelo Sant'Angelo, nonché il presidente della Proloco di Adrano, Niccolò Moschitta. In modo parziale perché sostanzialmente sono già finiti i lavori di tipo strutturale che sono stati praticamente dei lavori che hanno impegnato di più sia le maestranze che la direzione dei lavori che è stata affidata alla solitendenza. In particolare abbiamo realizzato l'ascensore per i portatori di handicap, tutto un sistema di impianto di climatizzazione, ovviamente per rendere più accogliente i nostri locali e tutto un sistema per inserire i touch desk che saranno, come voi sapete, degli elementi tecnologici che serviranno per dare informazioni e anche divertimento perché ci saranno inseriti anche dei giochi all'interno del museo. Quindi abbiamo già aperto i primi due piani, il piano terra dedicato al Neolitico, il primo piano che praticamente riporta i reperti della città del Mentolito. Entro il mese siamo pronti per aprire anche il primo piano con la cappelletta appena gli archeologi completeranno anche questo ulteriore step. Per gli altri due occorrerà ancora il tempo? Gli altri due avremo un po' di tempo in più perché abbiamo necessità di riparare, come sapete, quel solaio con quel brutto incidente che c'è stato la domenica di Pasqua, per cui lì avremo bisogno di un po' di tempo in più. E quindi poi in via definitiva, spero entro l'anno, gli ulteriori due piani più la terrazza che poi in qualche modo è una meta preferita dei nostri visitatori. Una novità importante è il fatto che per la prima volta il Museo di Adano la sua unità operativa di direzione, questo quanto sarà importante? Per il museo cosa significa? Sarà importante perché almeno il Museo di Adano non sarà gestito da lontano, cioè prima c'era un'unità operativa di valorizzazione che doveva gestire parecchi siti culturali, compreso il Museo di Adano. Con questa riforma voluta appunto dalla giunta regionale, hanno dedicato ai musei un'unità di direzione, per cui noi saremo sempre presenti sul posto a gestire direttamente quello che è appunto il museo e alla valorizzazione dello stesso e a creare contatti col territorio. L'altra cosa importante è quella di poter avere un aggancio col territorio e promuovere la cultura, cioè essere il museo, essere anche contenitore delle proposte culturali di questa città. Assessore, dunque il museo ritorna ad essere patrimonio della città, è stato importante valorizzarlo e soprattutto portare turisti. Sì, è un grande patrimonio per la città e un grande volano per il turismo. In questo ultimo anno devo dire che effettivamente la città ha sofferto per la chiusura del museo e non a caso apre in questo preciso momento, anche se in modo parziale, perché coincide con l'inizio della scuola. A Adrano sappiamo il museo archeologico di Adrano può essere un punto di riferimento per tutte le scuole del territorio della Sicilia. Infatti con il direttore, l'architetto Nello Caruso, in questo ultimo mese siamo messi in contatto proprio per arrivare finalmente a questa data importante per l'apertura. Nei prossimi giorni, come ha ben detto lui, si provvederà anche per aprire la restante parte del castello. Si chiama Festa con tre P ricordando il modo in cui si firmava Padre Pino Puglisi ed è la nuova manifestazione organizzata dall'Arcidiocesi di Palermo nel ventitresimo anniversario per mano mafiosa del sacerdote martire Don Pino Puglisi. Una festa musicale non solo aperta a tutti che si terrà il prossimo 15 settembre dalle 20.30 nel piano della cattedrale di Palermo pensata per coinvolgere non solo coloro che conoscevano Don Pino Puglisi ma tutta la cittadinanza e soprattutto le nuove generazioni. È stato trovato l'accordo sui varchi d'accesso all'apporto di Palermo. D'ora in poi saranno aperti cinque ingressi in incluso il barco San Mozzo. Sarebbe questo il contenuto dell'intesa raggiunta tra il Comune di Palermo e l'autorità portuale nel corso della riunione che si è tenuta questo pomeriggio dopo il caos e le polemiche sulla mobilità in via Francesco Crispi a causa dei lavori per l'anello ferroviario. Passiamo alla pagina degli eventi un evento che si tinge di solidarietà pane, amore e fantasia è il titolo dello spettacolo teatrale in programma sabato prossimo a Paternò a San Francesco alla Collina si tratta di un'iniziativa che ancora una volta vede insieme la cultura come detto e la solidarietà una serata di beneficenza organizzata dal Teatro Giovane Turi Pappalardo insieme alla Croce Rossa Italiana a sezione di Paternò l'obiettivo è quello di poter raccogliere appunto dei fondi per l'acquisto di buoni pane. L'appuntamento sabato prossimo nella splendida cornice di San Francesco alla Collina il Teatro Giovane Turi Pappalardo e la Croce Rossa Italiana a sezione di Paternò uniscono le loro forze in nome della solidarietà per una serata di beneficenza il cui ricavato verrà destinato alle famiglie indigenti di Paternò San Francesco alla Collina ospiterà dunque una serata teatrale per la regia di Biagio Di Caro e Francesco Pappalardo pane, amore e fantasia il titolo dello spettacolo per trascorrere alcune ore in allegria con protagonisti il buon umore e il folclore siciliano con l'obiettivo di aiutare chi vive un momento di grave difficoltà economica tanto grave che molte famiglie oggi a Paternò non riescono neanche a comprare il pane che invece non dovrebbe mai mancare dalle tavole da qui la decisione di organizzare uno spettacolo con il ricavato da destinare ai panificatori per l'acquisto di buoni pane Con la Croce Rossa quest'anno abbiamo pensato a questa iniziativa di beneficenza coinvolgendo un po' tutta la popolazione il teatro giovani Turi Pappalardo che si è prestato come sempre a questa esigenza di volontariato e abbiamo pensato alle famiglie che non possono neanche comprare il panino al bambino che va a scuola quindi verrà devoluto tutto il raccolto di questo spettacolo che organizzeremo all'acquisto di buoni pane che verranno distribuiti a chi più ne ha bisogno Voi avete concentrato la vostra attenzione proprio sul pane che può sembrare anche banale perché tutti abbiamo a casa il pane Invece noi ci siamo accorti che nel territorio di Paternò proprio il pane in molte tavole manca e quando manca il pane manca tutto perché si comincia dal pane il pane è la prima cosa che il papà e la mamma pensano di acquistare la mattina perché dal pane si comincia e ci siamo resi conto che noi che abbiamo tutto lo diamo per scontato e invece ha un significato importante e ci dovrebbe essere in tutte le tavole dei nostri concittadini mentre ci siamo resi conto da un sondaggio che abbiamo fatto che tocchiamo anche con mano per il lavoro che noi facciamo che in molte tavole dei nostri compaesani manca il pane quindi per questo noi vogliamo iniziare proprio dal pane Il Teatro Giovane Turi Pappalardo ancora sposa la solidarietà e questa volta si fa questo connubio con la Croce Rossa? Sì, stavolta è un connubio che è fatto esclusivamente con la Croce Rossa Il Teatro Giovane Turi Pappalardo sposa sempre si può dire adesso il mondo della solidarietà e la serata sarà particolarmente interessante sia per quanto riguarda le finalità abbiamo dato un titolo a questa serata a quest'evento che si chiama Pane, Amore e Fantasia che sono quegli elementi per cui la vita sicuramente mancando questi diventerebbe molto grigia il pane ci sta pensando la Croce Rossa non ci possiamo pensare noi per l'amore, mancando l'amore mancherebbe tutto ci sarebbe un teatro vuoto, ci sarebbe San Francesco alla Collina con le sedie sicuramente vuote la fantasia la scoprirete quella sera è uno spettacolo, insomma non mancherà da ridere immangabilmente sarà comico dall'inizio alla fine perché la solidarietà si fa ridendo e questo è il nostro concetto però non dobbiamo mai dimenticare che quando c'è professionalità quelle arti, quei ricordi che sono nostri tipicamente siciliani e parlo di folklore siciliano parlo di canto, di musica quando c'è professionalità e persone di alto livello che lo mettono in scena e allora non dimentichiamo lo mettiamo in scena anche quello quindi anche musiche e canti siciliani per tutti e con questo servizio si chiude questo spazio con l'informazione vi saluto, vi do appuntamento alla prossima edizione buona serata 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 buona serata